Qual è la situazione attuale della cannabis terapeutica in Italia? Allora, a seconda delle regioni c'è una liberalizzazione totale per quanto riguarda il consumo sia del THC che nella tabella stupefacenti che i prodotti a base di CBD, che non sono ancora dal Sistema Sanitario Nazionale stati standardizzati o inseriti nelle tabelle del farmaco. C'è in questo momento una produzione di una volontà da parte della lobby farmaceutica di inserire farmaci a base CBD e CBG. So che c'è una ditta, un'importante azienda chimica di Pisa che sta lavorando tre quintali di prodotto al giorno per fare CBD e cannabidiolo e cannabidiolo. Due molecole che sono le cannabidioli più interessanti scoperte per il trattamento delle pelissie pediatriche nel caso della gemelina Charlotte e ora stanno trovando un sacco di altre indicazioni che sono del tutto nuove anche per la classe medica oltre che per quella dei pazienti. La situazione è che la legislazione permette la coltivazione a chiunque di cannabis sotto 0,6% di principi attivi di tetraidrocannabinolo. L'utilizzo non può essere né alimentare né inalatorio perché quelle tracce sparano di una molecola che è in tabella quindi è un utilizzo che si può fare, è industriale. L'utilizzo che ne viene fatto ora come pacchetti da inalazione, come prodotto di tisana, sta percorrendo una fascia grigia da normativa perché è in una situazione dove la merceologia italiana non l'ha ancora prevista. Non si sa se inserirla nei prodotti solamente farmaceutici, solamente da tabacchino. Deve essere regolamentato ancora quindi per bene? Sì, deve essere ancora regolamentata per bene la questione. Di fatto cosa c'è di sicuro legale? Che una piantagione per avere i crismi della legalità completa deve avere una tracciabilità dalla risorsa base, il seme che scegli, che deve appartenere a una di quelle sessantini di varietà che il Ministero delle politiche agricole e forestali permette in Italia. Noi quest'anno qui abbiamo scelto tre varietà, una precoce, una un po' meno, una un po' più lunga. Ora quelle che vedete sono rimaste delle piante di Compolti e Virtus. Le finola sono state le autofiorenti che abbiamo raccolto per primo. E quest'anno questa è una specie di esperimento di campionamento per vedere qual è la razza che più si adatta a questo tipo di terreno, qual è il rapporto consumo acqua, fertilizzanti e resa a seconda del tipo di genetica. Uno studio che stiamo facendo anche su altri terreni, sia nella Lucchesia, che nell'Aretino, che nel Grossetano, che poi guarderemo con una società italiana canapa medica che valuterà i dati e cercherà di accumulare dati per avere informazioni sempre più vicine alla verità in questo settore. Perché purtroppo lo stracismo che c'è stato e che c'è tuttora, la disinformazione che c'è tuttora, moltissimi italiani patriottici credono che sia illegale la coltivazione di canapa. Anche questa da fibra, questa da olio essenziale, da correzione, di cosmetica o come articolo da profumazione. Invece non lo è. Le 11 regioni che hanno liberalizzato anche quella alto THC in testa alla Toscana permettono un utilizzo a fornitura del servizio sanitario nazionale solo per alcune patologie. Tipo la Toscana accetta il dolore inoplastico che non risponde a morfina, la sindrome di Gilles della Turetto, una sindrome psichiatrica che conosci, come mio rilassante, mio rilassante nella sclerosi multipla, che non risponde a decontratturanti muscolari classici, periferici o centrali. E la quarta indicazione? Dolore talamico. Su queste indicazioni il sistema internazionale cerca di garantire un approvvigionamento. Purtroppo non riesce in tutta l'Italia a avere canapa ad alto THC accreditata nelle vie legali, se non una quantità che non credo superi 5 quintali annui, sia con l'acquisto dal mercato olandese, sia con la fornitura degli studio chimico militari di Firenze, sia con l'acquisto dal mercato canalese, che hanno a oggi le uniche ditte accreditate a poter fare questo tipo di produzione nella legalità. e a fornire le farmacie italiane. Le indicazioni sono innumerevoli, le scopriremo mano a mano. La differenza tra THC e CBD? Da un punto di vista chimico ci sono uno e un tetraidrocannabinolo, quindi ha una sola molecola alcolica, ha 4 molecole ossidriliche, l'altro è un cannabidiolo, ha 2 molecole alcoliche e nessuna molecola ossidrilica importante. Da un punto di vista della farmacocinetica si legano ognuno ai propri recettori. Probabilmente riesce anche il CBD a stimolare blandamente i recettori THC e blandamente il THC probabilmente alcuni tipi di recettori riesce a stimolarli, ma a oggi la coscienza sicura e informativa è che il THC ha il suo tipo di recettore più rappresentato nel nevrasse, sistema nervoso centrale, il CBD ha il suo recettore più rappresentato nel sistema nervoso periferico che innerva tutto il sistema viscerale. Un'altra differenza, lo puoi considerare per darti una metafora, è un po' come sono l'acceleratore e il freno. Poi se in te siano l'uno l'acceleratore e l'altro il freno, è in dipendenza soltanto del tuo assetto neuro-recettoriale, per cui a volte il THC ti può fare un effetto euforizzante, a volte ansiogeno, a volte il CBD ti può fare un effetto rimotivante e a volte narcotico, è in dipendenza di come ti trova. Quindi ogni paziente che utilizza cannabis avrà comunque una cura diversa dall'altro? È personalizzatissima su un training suo personale e per trovare il dosaggio giusto, è per trovare il prodotto giusto, è per trovare i momenti giusti di somministrazione e anche la modalità giusta, perché questo è un tipo di prodotto che puoi assumere da crudo e ha un effetto essiccato, crudo. Quali sono comunque le tipologie con cui si può assumere? Le tipologie di metodi con cui si può assumere? Dalla supposta endorettale alla goccia sublinguale, all'accessione transdermica, la rapidità d'assunzione, chiaramente la supposta, nei flessi moridari garantiscono un assorbimento più rapido che è l'assorbimento per via alimentare che è dove c'è anche una processazione acida nello stomaco che riduce la quantità di molecole che riescono ad arrivare nel sangue. Puoi usare l'accessione transdermica, puoi usare delle cartine sublinguali che vengono assorbite direttamente senza passare allo stomaco per tutti quelli malati che hanno perso l'onda di deglutizione, sclerosi laterale metrofica, dove sarebbe impossibile una qualsiasi altra forma di somministrazione. Ma oggi come ti viene in modo alimentare? Puoi mangiarla cotta, cruda, semicotta, decarboxillata? E gli effetti sono personali. Chi fa i prodotti te lo dice, quando è serio ti dice tu la provi, me lo dici te, che effetto ti fa? Perché non è prevedibile, onestamente non è prevedibile. È stato vagliato l'idea di fare dei costosissimi test di screening per la valutazione del numero di recettori, ma implicherebbe moltissime biopsie di organi anche che devono vivere in asepsie, di conseguenza rischi inutili dove basta una volta, due volte, tre volte, l'assunzione e vedi se sei un soggetto che ha una popolazione recettoriale molto rappresentata o poco rappresentata in altri termini, se hai un effetto troppo marcato o nessun effetto clinico. Ma è possibile farla gestire direttamente al paziente? La terapia? Sempre comunque in accordo con il medico, ma non in modo assillante? Io sono di questo parere, come essere umano che preferisce oziare piuttosto che lavorare, chiaramente preferirei che ci fosse un'autonomia totale di gestione della sanità da ogni singolo individuo, non che ci debbano essere delle authority che dicono a te, cosa serve a te per la tua salute. Io non posso conoscere le tue dinamiche interiori se sei un masochista o un narcisista, dove pende più l'ago della tua bilancia, se verso il piacere o verso il dolore. Di conseguenza dovrei prima scoprire questo, ma non puoi condividerlo perfettamente perché sarebbe sempre il soggetto a una mia reinterpretazione in questa scatola nera, perché è il mio sistema sensoriale, che di conseguenza potrebbe perdere tantissima verità su di non cogliere quei dettagli che fanno sì, e hanno fatto sì e faranno ancora sì, che la medicina classica si trova disarmata davanti a certi tipi di patologie, che le risultano ancora misteriose, intrattabili. Io sono per il licenziare il proprio medico, me incluso, diventare medici di noi stessi è un'opzione che non è così difficile, sempre meno difficile che diventare ingegneri energetici di se stessi o i costruttori della propria casa. La salute è una cosa che è talmente importante e credo che l'addestramento possa cominciare già dai primi vagiti, quando si esce dal corpo, addirittura quando siamo nella pancia possiamo cominciare a subire degli addestramenti su come si sta in salute in questa dimensione. E un medico secondo me non è utile, hanno fatto molto lavoro più benefico dei scrittori, scrivendo dei romanzi, dei registi, dirigendo dei film. Non credo che sia ancora necessario oggi con la facilità di informazione e l'accesso internet che ti consente di sapere in tempo reale qualsiasi pubblicazione medica. Lo trovo un doctor shopping inutile andare a richiedere personalmente al medico un'opinione, anche e soprattutto su cose dove il medico stesso attualmente vive ancora nell'ignoranza. Però vabbè, ci sono anche tante notizie false comunque. Per quello ti dico che devi fare da te, proprio perché ci sono tante notizie false. Quella che per me è la religione base e per te può essere una convinzione assurda ed è tutta inutile. Per risponderti sì, sono convinto che salvo casi gravi di inabilità fisica e mentali di un certo livello, persone diciamo una certa fascia di invalidità possono gestire da soli la propria terapia e diventare più esperti di qualsiasi terapeuta professionista, su se stessi chiaramente, sull'effetto personale. Sull'epilessia? Sull'epilessia ti dicevo prima la Charlotte famosa e queste erbe a CBD hanno trovato questo grande riscontro nel mondo sanitario grazie a quella ragazzina alla gemellina con l'epilessia pediatrica, la famosa Charlotte, a cui è stata dedicata all'erba Charlotte, che è un'erba altissimo CBD a bassissimo THC che ha risolto il problema dell'epilessia sospendendo barbiturati, sospendendo il valpurato sodico, il citalo, tutti quegli altri prodotti che normalmente anche purtroppo nella farmacopia pediatrica americana vengono utilizzati per l'epilessia pediatrica, creando una popolazione di disagiati che non potranno mai avere performance di livello alto in società o in scuola. Sulla anoressia invece te l'avevi fatto anche sull'anoressia ho visto delle osservazioni dove ho notato il potere che ha questo prodotto di disinnescare tante convinzioni assurde dell'anoressica e riportarla al cibo. Un'azione secondo me oltre che psicodinamica anche strutturale, anche biochimica. Purtroppo sai, l'anoressica nasce da un quadro psicosociale di solito deviato, perverso. Poi perché solo quella nell'anidiata e non tutte le sorelle o tutti i fratelli allì c'è quella componente dell'1% di epigenetica, senz'altro. Però quasi tutte, vedi, queste persone sono in situazioni dove c'è un conflitto potente fra l'educazione di base e quello che si è svolto nella famiglia. Ad esempio il padre è super morigerato, religioso e poi tradisce la moglie, la figlia lo scopre, c'è un tradimento dell'ideologia di base e questo attira fuori questa cattiveria anche in questa malattia, anche contro se stesse, appunto in questa autotortura della continuare a vivere in uno stato di media sempre più marcato fino a trovare la bellezza appunto nell'energia pura, nell'assenza quasi di materia. La classe medica? E la marijuana. La classe medica sa da tempo dell'efficacia. Già c'è un manuale bellissimo scritto da Scientific American dove avevano già visto queste le valenze potenti che aveva sul trattamento di disturbi da condottere alimentare e versante anoressico e versante bulimico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.